Ciao Valerio e ciao Mancuso. Ciao Mancu. Siete due persone separate, tipo con l'acqua calda diventi Valerio e con l'acqua fredda diventi Mancuso, un po' come Ramma. Quindi Valerio è mezzo. Eh sì esatto, e tu non c'è scritto, poi c'è scritto che sei di Trieste. Bella Trieste. È una bella città, peccato, peccato per quel difetto lì. Vabbè ma c'è un po' dappertutto quel difetto lì, cioè voglio dire. A quale difetto ti riferisco? Dipende a quale ti riferivi tu. Ah vabbè dipende a quale vi riferite voi. Ci siamo stati per l'ostra parte Trieste, è davvero una delle mie città italiane preferite. Devo dirlo, lo dico di tutte le città, però di Trieste è vero perché è ordinata, non c'è l'immondizia in giro. Vabbè siamo scaduti nel populismo. Grazie mille. Guarda il video speciale, quello di dolore fisico, magari non l'hai visto. Tu hai il diritto di vederlo tra l'altro quindi.